Io resto a casa, un principio sacrosanto in tempo di emergenza coronavirus che però a quanto pare non vale per quei migranti rissosi, senza fissa dimora, che appaiono nel video shock ricevuto dai nostri telespettatori e che abbiamo mandato in onda ieri, poche ore dopo che in via Firenze a Vicenza erano stati fermati nel corso di un controllo anti-covid dalla polizia locale e dai militari. Uno aveva reagito incredibilmente stracciando la multa davanti alle forze dell'ordine. Mentre l'altro sfogava la sua rabbia lanciando delle bottiglie contro i residenti affacciati sui terrazzi di una palazzina. Oggi noi di Rete Veneta, come promesso, portiamo la questione al sindaco Francesco Rucco a cui chiediamo una risposta. Dalle immagini che sono state fornite all'amministrazione da Rete Veneta emerge questo gesto inaccettabile di alcuni extracomunitari che in via Firenze hanno lanciato delle bottiglie contro alcuni residenti. È inaccettabile che queste situazioni accadano, le forze di polizia locale con le forze di polizia dello Stato e i carabinieri stanno lavorando con pattuglie miste per controllare il territorio. Uno di questi responsabili è stato anche assicurato alla Polizia di Stato con un intervento proprio ieri pomeriggio, però è necessario che il governo intervenga con leggi speciali per poter intervenire in maniera più ferma con strumenti come quello dell'arresto che devono essere strumenti necessari per casi di questo genere.